Clima surreale all'Angelini, aria pesante si respira sui gradoni della tribuna con la dirigenza teatrina mortificata dagli episodi di violenza ben noti a tutti. E ancora una volta gli sportivi si affidano ai flash radiofonici per seguire le sorti della gara Chieti-Santegidiese, dove i padroni di casa preparano il riscatto con gli ospiti, confermati pretendenti alla serie superiore. Prima del calcio di inizio un pensiero di solidarietà rivolto alle vittime e ai sopravvissuti del terremoto di Haiti. All'ottavo neroverdi in azione pressante, Savi vede sull'esterno Sibiglia impreciso nel tiro a rete. Cinque minuti dopo il centrale offensivo Bucchi rifinisce, con prontezza di riflessi, una ghiotta occasione per Abdu, che elude con facilità l'opposizione dell'avversario e sigla il vantaggio giallorosso. Oltre all'umidità sembra calare il buio all'Angelini, ma il disappunto per il colpo subito grida nell'animo neroverde, ferito sul morale ma non nella compattezza. E così al sedicesimo Sibiglia che traversa l'area avversaria. La palla arriva sul piede di Savi che si coordina per la rete del rabbioso pareggio. E la rabbia è così vibrante che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al ventisettesimo la sortita offensiva del difensore Pepe fa presagire al vantaggio dei padroni di casa, che arriva al trentottesimo su calcio d'angolo. Azione corale di Savi, Sibiglia con Sabatini che angola a rete per il vantaggio dei Teatini. Ma la rabbia si trasforma in classe calcistica al quarantesimo, con Vitone che pennella su punizione una bordata carica di rivalza per la dirigenza neroverde. 3-1. L'attacco stellare della Sante Gigese non brilla e allora Mazzalorso nella ripresa rivitalizza l'ispirazione della manovra con l'ingresso di Monaco e Casali. Ed il primo effetto si vede al dodicesimo. Bucchi trova lo spiraglio ma la sfera è intercettata sulla linea da Vitone. Il gioco dei Terramani è convincente ma la determinazione sottoporta pecca della necessaria lucidità. Al ventisesimo la bella intuizione di Fabrizzi di poco alta sulla traversa illude le speranze degli ospiti che più tardi si ritrovano attanagliati dal dinamismo dei Teatini che con Savi accarezzano la quarta marcatura. Impennata di orgoglio dei giallorossi, Perna mette le ali al Batman neroverdi di Prete che con questo volo riconsegna il 3-1 a Vivarini. Prova di carattere e personalità ma soprattutto di responsabilità morale nei confronti del presidente Walter Bellia. La telecamera di Enzo Rabottini si sofferma sulla deserta curva della tifoseria locale dedicata alla memoria di un allenatore adottato dagli sportivi teatini. Un uomo che fondava la propria professionalità sulla correttezza. Il caro Ezio Volpi che al di là dei risultati esigeva il rispetto di chi lavora nel mondo del calcio e la lealtà sportiva di chi scende in campo. Siamo partiti bene e poi abbiamo perso un po' le distanze. Nel secondo abbiamo rimediato un po', abbiamo avuto molta pressione però non siamo riusciti ad accorciare le distanze e abbiamo pagato un po' quel primo tempo, quelli 20 minuti che noi hanno segnato. Vivarini, il morale di questa squadra non era proprio sotto i tacchi? No, ma noi anche a Canisto il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo. Questa è una squadra che si deve cercare di giocare a calcio. oggi l'ha fatto con qualità, creando tantissime occasioni da gol, facendo gol, merito veramente importante a tutti i ragazzi.